Abbiamo un grande ritorno che è qui accanto a me, che è il maestro Massimo Pitti Gasparon Contarini che ritorna su un palcoscenico del teatro sociale dopo aver inaugurato l'anno scorso la stagione con il barbiere di Siviglia quest'anno ritorna con le nozze di Figaro e poi lo vedremo anche per la tour Andò a gennaio quindi siamo molto felici di averlo qui anche perché voi sapete, l'avete scritto oggi il maestro Massimo ha anche questo legame con la nostra città grazie al fatto che ha deciso di intraprendere questo progetto di restauro di Villa Grimani quindi è un nostro concittadino per questo motivo e quindi anche per questa ragione siamo ancora ben più lieti di averlo nel nostro cartellone della stagione e sarà, dopo vi lascio ai maestri raccontarvi di che cosa vedremo in scena questa opera è una produzione completamente del teatro sociale di Rovigo con la fondazione Rovigo Cultura quindi completamente nostra le scenografie sono state create nel nostro laboratorio di scenografia e ancora una volta devo ringraziare come sempre tutti quanti coloro che ci sono vicini per quanto riguarda il supporto anche dal punto di vista economico che c'è per tutta la stagione del teatro sociale quindi il ministero, la regione, la fondazione Cariparo, la fondazione Rovigo Cultura SM7 la cui presidente oggi non è qui con noi ma manda il suo saluto da parte mia tramite me insomma e devo sempre ringraziare il pubblico perché ci sta seguendo con un calore ed un affetto che era da tanto tempo che non sentivamo nel nostro teatro e questa cosa ci rende ancora più orgogliosi e più entusiasti per andare avanti in questa grande stagione del bicentenario del teatro sociale io non voglio dilungarmi oltre perché voglio che queste conferenze stampa diventino un po' il focus sull'opera ricordo la presentazione dell'opera a cura del professor Costato che è giovedì pomeriggio al ridotto del teatro sociale e passo subito la parola prima al nostro direttore artistico e poi seguiamo due cose brevi, Nozze di Figaro tutt'altro mondo, tutt'altra tipologia d'opera rispetto a Nabucco questa è un'opera più raccolta, più infianale, più salutiera deliziosa, è una commedia, quasi una commedia dell'arte è un titolo che mancava da un po' di tempo sul palco del teatro sociale l'intenzione sarà quella appunto di proseguire con questo cosiddetto critico Don Giovanni, così fan tutte che fanno parte di questa trilogia di Mon Marché e che in qualche maniera si collega anche a Barbieri di Sivile che abbiamo realizzato l'anno scorso quindi così come un figlio rouge attorno a questo pensiero la produzione prevede anche il rapporto con alcuni di artisti che hanno avuto modo anche di cantare variati anni fa, molti anni fa e quindi è stato anche un bel ritorno da questo punto di vista artisti che sono in carriera come Fabio Previati Gabriella Costa, Filippo Pina Castiglioni sono cantanti che hanno calcato il palco del nostro teatro sociale molti anni fa e con grande piacere sono ritornati perché come dire è vero spazio ai giovani ma abbiamo sempre dei grandi professionisti di cui è giusto ricordarci e che ci hanno accompagnato in altri momenti e ancora oggi possono dare ancora di più dopo l'esperienza accumulata in molti anni di palcoscenza